Naturalmente ho tutti i negativi. Perché fai tutto questo, Dominic? Ti ho chiesto qualcosa? E allora non crearti altri problemi. Grazie. Grazie, Dominic. Dica pure pornografiche, commissario. Ognuno a casa sua guarda quello che gli pare. No? Ti è piaciuto talmente che adesso cominci anche a pagarmi. Porco! Chi te le ha fatte? Un fotografo, uno nuovo. L'ho conosciuto da poco. Ma non le può vendere? Magari, figurati che pubblicità. Spogliati. Portala a casa. Io farò qualche indagine. Senti, me la puoi prestare? Ma certo. Anzi, tienila. Te la regalo. Lei come l'ha avuta? So essere al posto giusto. Nel momento giusto. Siediti. Siediti. Se non mi lascia in pace andrò alla polizia. Non ti conviene. Alla polizia farei sentire questa registrazione. Piuttosto fatti dare l'assegno, eh. Chi? Il fotografo? Giù? Siediti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.